musica 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 bullizzato il tipo qua siamo tutti su un veicolo e andiamo sparpagliati no no tutti su un veicolo ah bastardo allora ciao a tutti ragazzi ci vediamo l'obiettivo oh bastardi aspettatemi ma la mia moto è in fumo aspetta dark c'è ancora te c'ho la moto in cui va a fa il fumo e grazie a dark che viene arrivato addosso con un po' la macchina e comunque c'è ancora il punto di esplorazione di dark sulla mappa potrebbe confondermi le idee eh come si fa tolgo aspetta tolgo aspetta come si fa tolgere e basta che clicchi sul punto d i clicchi dovrebbe scomparire come lei si ma aspettateci almeno si ma andiamo soltanto a fare ricognizioni ma lo avete lasciato con dark adesso deve essere di giusto a due ore se ti ritasti sempre ok l'obiettivo in cima alla montagna con una macchina perfettissima prof dovremo andare tipo nel loro lato tipo al lato sinistro dove è una versione così a cazzo madonna oddio ti per questo strada dark no lo stanno per di qua ma la strada di sotto ah devo andare in si devi seguire la strisciaggia praticamente ok buttati da qua tanto su quindi madonna ma tipo io e black siamo praticamente due ripognitori perfetti oppa la tan 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 cosa? si c'è il tasto apposito con il r o tasto giù con il r dove cazzo devo andare adesso? sai qui la linea gialla su cos'è che esplosa? io non vedo la linea, io vedo la strada e basta eh dovrebbe essere blu per te no non vedo niente ah, fa guidarmi fermati allora vediamo di trovare un punto beh tanto noi c'erano di qua oddio che cazzo mi ringraziato allora siamo di qua dicando Sandorall e rientro a la rosa di ACS crashato il giorno con CTRL no c'è ancora con il controller ah, ah, secondo controller non so dire si è apprezzato il gioco forse ti sta caricando un b. eh, se apri sentieri qua dalla morte sentire della morte i beni li affrontiamo da lato il pomoto da cross tipo la moto che vediamo dai, dai che ti dai ce ti ti muotirà manzi 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 ma una macchina esplosa o che cazzo è successo forse cazzo è stato di tutto forse Black ho trovato bel posto per Cicchi la moto moto è messa in piedi sul trappavente di roggia perché la mia moto può ok secondo me su quella roccia là c'è un bel punto da cecchina siamo seriosi a filmare adesso perché prima purtroppo orcolchetto non ho potuto momenti mi si incastra il piede facciamo sempre la solita scena dove allora tu vai là c'è se vuoi facciamo la stella dall'altra parte infatti mi vedete in due punti differenti cosa mi è riuscito coprire il pizzore chiedita che stiamo vendicando se non ci sono un cicciotto su ciccio odo a dare se vedi quei sapete la benzina non sparare il fracca occhia è una cosa dire so che cosa è pulito su una coppia di deviati a voi no no a me la continua a dire ho perso l'obiettivo dove cazzo sarebbe l'obiettivo? eh quella zona gialla eh sto salendo perchè voglio vedere l'obiettivo ah mi vuoi andare proprio di sopra allora un po' di più ah beh vero sono qui sotto loro e c'è una base vero ma dove è un scattore professionista aspetta che devo salire su questa montagna per vedere bene oh va coca ok quattro signore elicottero che sono oh che bella riuscite lanciare un troppo già per spottare i nemici io c'ho il binocolo aspetta che guardiamo che mi sembra che c'è un vicino dark e ci sono i vicini allora c'è un elicottero ah vi posso anche pingare il codore allora c'è un elicottero lì ragazzi so che i polizzi sono i 100 metri da noi deviati e che stiamo vendicando mi sposto sull'altra roccia perchè devo capire da cazzo sono e questo punto è perfetto ah ok probabilmente l'obiettivo è qua avanti non so di preciso cosa dobbiamo fare ah ottiene l'accesso al capanna da cazzo ah è questo qui ok mando un drone anche ottiene la cosa vuol dire ottiene l'accesso vedo delle capre io vedo tipo il piccolo albi sulla collinetta piaccio ma penso che qua non ci siano i nemici e infatti perchè non dà neanche segnali arancioni vuol dire che forse bisogna capire come entrare in casa anche se però vabbè intanti io ho il coprischio e dark stiamo andando infatti siamo partiti tranquillo tranquillo vedete do togliere i segnali vicino al capanna occhi aperti aspetta 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 d'oro a te ragazzi che dove cazzo sono sono sopra no che cazzo sono quelli fanno la caccia altitudine del 2004 uuuh aspetta che mi metto un attimo chinato perchè sono avete visto ragazzi al mappa che è diventato arancione aspetta sto mandando un drone qui su perchè forse non sono neanche qui sopra dove cazzo sono non è che sia un sotto magari tipo di cazzo beh l'obiettivo è dentro la stanza dentro la casa spero che non ci sia un passaggio che porta di sotto nella casa e magari sono sotto loro sono sotto la collise, sono sotto la montagna ok dark te ci sei noi ci avviciniamo aspetta che vado a controllare dietro la montagna ok beh avevi le pecore vicino a te ma devi far esplodere cosa devi fare? sto scassinando ah ok uccidi la juri del polito oh madonna dark squiperty ah allora c'è un passaggio dentro ragazzi dovete entrare dentro la montagna allora bene anche noi non mi ricordo cosa sarebbe ora scendiamo oh a meno che dopo lo mettano i rapporti stanza la camera del letto libera vediamo anche noi ok di sotto ragazzi venite vediamo una tigre imbalzamato no quella imbalzamata è un guppo imbalzamato oh mi raccomando ragazzi silenziatore dark piazza silenziatore c'è uno non te lo vedo però nell'armale dark dai da me ti dice che ce l'ho ok monta silenziatore mi dice ok curridoio sinistra vuoto ok contatto si oh è pieno di gente qua mamasita contatto dopo il curridoio ok riesci a spottarli eh come faccio mi dovrebbe andare a spottare il drone ok si allora o forse no perchè sono dietro una vetrata vuoi essere ok io striscio ragazzi se strisciamo non ci vedono ho finito la batteria del drone ok si ok se ci muoviamo bassi non ci vedono vai io faccio il tre oh sono dietro la twitch c'è la motosega resident evil il vecchio non spellerà le spazzo stai giù madonna non so come si mette acquacciati con c ragazzi basta che sono attaccati al muro oh sono in una letta forse ragazzi non so ma possiamo sparrare a tre oci i vetri possibile no secondo me sono c'è scritto bulletproof glass sul vetro quindi è antiproietile ok quando ci siete apro ok c'è che entriamo arrivo vicino sta tratturando uno povero perchè non si mette d'altra parte ci siete? un attimo vabbè per andare ok no ma si vabbè piega d'altra parte via vai vabbè non è il tastiere ok ok non uccidete la tipa o penso ah si dobbiamo ucciderla apposto ma chi era quella quella cambotta chi è che sto parlando della lente dolorosa ah ma da dentro non vedevi cosa c'è fuori ah è vero allora è una classica oddio ma è una minigunz qua prendiamo di sotto ok di sotto ucciso perfetto bene ho fatto un po' una cazzata con i cazzati ho pensato tutte le missioni della storia benissimo ho sbloccato a capo quantità per lui per lei o qualcos'altro cosa dì per lui per lei io non ho sbloccato il cazz qua che c'è ma qua c'è qualcosa ma qua ci sono delle armi ma no marca risorsa ok questo tipo appeso oddio sono pezzi di braccia perché ho l'impressione che appena usciamo dall'edificio c'è gente è un classico beh comunque abbiamo l'elicottero per no no c'è nessuno c'è nessuno per l'anare e ma cosa ho sbloccato è e ho 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 Grazie a tutti.